...contribuire a questa serie, i casi lo hanno fatto e lo hanno dimostrato. Certamente cercheremo un po' tutte le strade per poter riuscire a fare questa impresa veramente grande. Potrei dire che alcune cose sono già state pensate. Abbiamo, per caso non essi ancora, fatto la montazione dei redditi, 5 per 1000 può donarlo alla nostra parrocchia. Quindi anche questo può essere un contributo e poi la differenzione ritorrente data ai propri avanti. Cioè ci sono delle commissioni di esperti che puoi spiegare a tutto. Io non sto a studiare perché non sarei all'altezza per spiegare queste cose. Però diciamo che è questo che può fare. È la nostra parrocchia e vogliamo che continui ad essere la nostra parrocchia e tutti insieme, tutte le attività che facciamo, tutte le realtà. E questa realtà, non voi lo dà, ma sono tante attorno a tutto l'ambiente in cui viviamo. Vogliamo continuare. E vorrei concludere dicendo che per tutto questo ringraziamo il nuovo scout che stasera ha organizzato tutto. E adesso mi aspetta ancora un po' di lavoro. e ora puoi smontare tutto, domandola qui deve essere tutto libero. Quindi è una bella nuova da fare. E domandola qui si sa proporre a tutte le attività. E comunque vi auguriamo un buon lavoro. E ringraziamo le azioni cattoliche, ringraziamo tutti voi. Tutti i fratellini che vi siete divertiti questa sera. ci montano, benissimo, questo era l'effetto di tutti. Adesso concludiamo e ringraziamo il saluto. Ci siamo i figli e le facciamo la premiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito e del Santo. Amo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. E venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo e così terra. Daci oggi il nostro pane e quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non si indurre in tentazione, ma di gracia amare. Amo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E benedica Dio di potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. Mi hanno detto anche quello che hanno ricavato stasera. Andrò, facciamo la cena, buttandovi di 1.600 euro. Grazie. Adesso andiamo la serata con il tasto canto degli scorti, e le andate via che andate con noi. Andiamo. 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 Grazie a tutti.